Il santuario della Comella a Seniga, proprio per la sua posizione di confine, pur essendo in diocesi di Brescia, ospita tanti fedeli anche dal Cremonese. E in occasione del weekend del 21-22 settembre, proprio qui sarà possibile osservare da vicino, non per esorcizzarla né per cancellarla, ma per capirla e offrire speranza alla malattia, a presentare l'evento è don Alessandro Lovati. Il giorno 21 e 22, durante le messe, facciamo la giornata del malato. Faremo l'unzione degli infermi e la benedizione con le reliquie di Padre Pio e anche di Giovanni Paolo II. Noi cominceremo al sabato alle 16 e domenica alla messa delle 9 e mezza e delle 16. Ci saranno delle toccanti testimonianze di alcune persone che stanno vivendo nella sofferenza, nel dolore, nella malattia. Quindi mi rivolgo a tutti coloro che ascoltano la televisione, perché spesso qui nel santuario e sempre più vengono persone che quando vengono qui dicono non ce la facciamo più. E quindi durante questi giorni ci saranno delle... invito proprio agli ammalati, le persone che fanno fatica a venire in questo momento per ricevere luce, forza, fede, consolazione, speranza. Avremo alcuni disabili del centro Nikolaevka di Brescia e poi avremo anche una moglie il cui marito ha fatto un incidente cadendo da una scala e si è trovato tetraplegico. E poi avremo anche la testimonianza di un apparente di Angiolino Bonetta. Anni fa è stato un ragazzo, un adolescente che ha tagliato la gamba e ha vissuto la prova, il dolore, la malattia, con fede e amore a Dio. Un'occasione insomma per conoscere meglio chi soffre i suoi pensieri, tra le qualche insegnamento utile per tutti per dimostrare solidarietà e preghiera e al contempo saper ascoltare il prossimo.